Buonasera Kidoka, questo è GDA, Glossario dell'Avvento. 24 video in 24 giorni per raccontarti i termini che più utilizziamo sul tatami. La parola di oggi è... Dan, gradino o livello? Pensando alla parola Dan, la prima cosa che ci viene in mente sono i Dan delle cinture nere. E infatti in quel caso il Dan rappresenta proprio il grado della cintura nera. Allo stesso tempo Dan vuol dire anche livello. Infatti abbiamo Chudan per indicare il livello centrale e per indicare tutte le attività che si svolgono a livello centrale, come ad esempio Chudan Barai. Giudan indica il livello alto e da qui Giudan Barai. Per contro Gedan indica il livello basso e da qui Gedan Barai. Inoltre abbiamo poi la forma esecutiva Dankai, ovvero un gradino alla volta. Tipica della pratica Bukiwaza, pratica in cui Uchi e Uke si muovono con tempi differenti. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciarmi un like e di condividerlo. Se vuoi ricevere tutti gli aggiornamenti sulle mie attività e sui contenuti extra che condivido con la community, iscriviti al canale Telegram, trovi il link qui sotto in descrizione. Noi ci diamo appuntamento a domani sera alle 7 per un nuovo video. Ciao! Ciao!